Accordo governo sindacati relativo agli aumenti pensionistici e le norme che regolano il pensionamento. Di questo e di altro ancora si è parlato oggi nell'ambito dell'Assemblea Cittadina del coordinamento della Federazione Nazionale Pensionati. L'incontro si è svolto nei locali di via Generale Cascino a Gela. I lavori sono stati aperti dal coordinatore Orazio Ciaccia. All'incontro erano presenti il segretario generale territoriale di Egrigento Caltanissetta Eden Salvatore Montalbano ed il segretario regionale della Federazione Alfio Giulio. Credo che finalmente con questa intesa accordo, chiamiamola come vogliamo, tra governo e organizzazioni sindacali, Cigelli e Ciseguilli, sul tema della Previdenza, finalmente inizia un percorso virtuoso che riguardia sia i pensionati sia i giovani. Perché il segnale e il senso di questo accordo è un accordo che include e non divide, come ai mesi è fatto in questi ultimi anni, dividendo i giovani e gli anziani, come se gli anziani togliessero il futuro ai giovani. Con questo accordo c'è dentro alcune risposte che vengono date ai pensionati, come per esempio la non-taxiare, che non è altro che la soglia di defiscalizzazione che riguarda i lavoratori attivi, così come i pensionati. C'è la quattordicesima mensilità che riguarderà circa 1 milione e 200 mila persone e molti di questi sono allocati nel nostro territorio, in Sicilia, nel meridione, dove il tasso di povertà è molto più alto, come per i giovani. Per esempio c'è la possibilità di ricongiungere i contributi a costo zero, cosa estremamente importante che aiuta per precostituirsi una pensione più equa e più giusta. Si può riscattare la laurea con costi molto inferiori rispetto a prima. Ecco, abbiamo incominciato a incidere su quella che era una riforma capestra, la cosiddetta riforma fornero che ha messo in ginocchio i pensionati e i futuri pensionanti. In ultimo il problema dell'ape o apesi, cioè la possibilità alle persone di andare in pensione prima dei famosi 66-67 anni che dice la riforma fornero. Chi ha alcuni anni di disoccupazione può accedere, ripeto, andando in pensione attraverso meccanismi che in questi giorni stanno definendo. Ecco, finalmente iniziamo un circuito virtuoso perché questa nostra terra, questo nostro territorio, sia siciliano sia nazionale, può uscire da questa condizione di crisi drammatica se il governo parla con le parti sociali.